Quattro nuovi casi conclamati di positività al coronavirus che vengono tutti da Alassio, dalle strutture ricettive di Alassio. Cambia qualcosa per la città? Possiamo parlare di un vero e proprio focolaio ad Alassio o la situazione è diversa? Allora, in questo momento le persone, giusto dirlo, sono all'ospedale policlinico San Martino e sono in una condizione di salute, direi, buona, ecco, non sono delle condizioni gravi. Quindi hanno un tampone positivo, questo sì. Per quanto riguarda l'area di Alassio, come ha ricordato il Presidente Totti che si è confrontato col Ministro della Salute e con il Capo della Protezione Civile, al momento non si ritiene di dover intervenire con ulteriori provvedimenti. Quindi non siamo di fronte a un focolaio, chiariamolo agli spettatori. In questo momento, appunto, con la consulta che c'è stata stamattina e anche subito dopo aver avuto notizia di questi quattro casi positivi, al momento non si ritiene di dover assumere provvedimenti.